Buonasera e benvenuti, oggi facciamo il tutorial della canzone di ultimo che si chiama Supereroi la prima parte la faccio con un arpeggio mentre la seconda, la parte successiva la faccio ritmata per il momento metto solo gli accordi e non la spiego perché vorrei capire se sulla base dei vari video che ho fatto e delle cose, dei metodi che vi ho spiegato siete in grado di trovare da soli quali sono le corde da arpeggiare che ormai l'ho spiegato veramente tantissime volte cominciamo con la parte arpeggiata perché l'amore passa e tu non passi mai perché ti senti solo e sola non lo sei perché ti guardi indietro e dietro non c'è niente me lo dicevano tutti un giorno capirai e ok dicevo no ti sbagli e lo vedrai tu non sei cosa dentro e cosa dentro lei e quel tempo ci ha fregato perché infame il suo mestiere senza fare mai rumore cambia il mondo da vedere cominciamo adesso con la parte ritmata perché guardo una foto e non so più provare quel pieno di emozioni che sapevo avere sarà che oggi fa freddo e freddo portate o sarà la nostalgia o forse il disincanto che porta a me a volare e non tornare presto almeno tu conserva un po' di fantasi e poi il tempo ci ha fregato perché infame il suo mestiere senza fare mai rumore cambia il mondo da vedere ma no noi no tornello perché a volte sento che non basta una vita per mostrare a te quello che ho dentro altre volte ti sento vicino e in un minuto e secondi sono cento in questo mondo fatto di scadenze tu hai dimostrato di poterle bruciare e in questo tempo non c'ha mai tempo di vederci all'un giorno cadere perché no, no, noi siamo superiore poi la canzone fa ricomincia da capo gli accordi sono sempre gli stessi le regole sono sempre le stesse ci vediamo alla prossima